Non ci sarà nessuno slittamento il 3 maggio, il giorno dell'apertura delle buste per quanto riguarda il bando delle piscine Lenaia, è una giornata importante, Assessore Febbo. Ieri abbiamo concluso l'esame, attento con la nostra avvocatura, anche di quella richiesta che c'era stata fatta dall'organizzazione sindacale di inserire la famosa clausola di salvaguardia e quindi di sospendere eventualmente la procedura dell'apertura. L'avvocatura è contraria, ci ha spiegato le motivazioni perché i tempi si allungherebbero a dismisura perché dobbiamo riaprire completamente i termini dando la possibilità anche a chi non ha partecipato la prima volta di partecipare quindi venderebbe veramente una cosa e non possiamo permetterci questo. Peraltro abbiamo visto che nel bando c'è una primarità di punteggio per chi comunque la inserisce quella clausola quindi sicuramente qualcuno l'ha inserita, comunque noi garantiremo alla ditta assegnataria e faremo emergere questa nostra volontà e necessità di garantire i posti di lavoro. Questo l'abbiamo visto ieri, ieri sera abbiamo incontrato i lavoratori e le organizzazioni sindacali e oggi parte l'iter, quindi qualche giorno per arrivare alla definizione della ditta poi ci saranno i tempi quelli tecnici, quindi se tutto va senza ostacoli, senza imprevisti, senza ricorsi ci auguriamo che non ci siano, visto che anche sono solamente tre le ditte che hanno partecipato noi entro il 10 giugno avremo la nuova apertura. Dico questo perché nel frattempo devo ringraziare l'assessore Liris che ha lavorato insieme in sinergia con me perché già abbiamo affidato i lavori per quanto riguarda la sostituzione della Caldaia per quanto riguarda le tubazioni, per quanto riguarda la centrale elettrica oltre 60 mila euro di spesa, qui ci vogliono quattro settimane per fare questi lavori stiamo in contatto costante con la curatela fallimentare che anche essa si è data veramente disponibile insomma noi vorremmo che il 10 giugno cominci un nuovo percorso per le naide che va avanti con questo progetto ma soprattutto che poi si andrà a inserire bene con il project financing su cui anche lì gli uffici stanno già lavorando.